È una manovra squilibrata che va a tutta vantaggio in alcune categorie ben precise, quelle che vivono di turismo, dimenticando tutti gli altri. Un giudizio negativo per quella che viene definita una manovra di bilancio squilibrata. Il consigliere comunale Marco Gasparinetti della lista civica Terra e Acqua 2020 avanza più di una riserva sulle decisioni prese da Caffarsetti. C'è un'esenzione totale della COSA per i titolari di plateatico e l'azzeramento dei canoni per i pontili dell'anzione di gran turismo e dei taxi, ma solo dei taxi d'acqua perché a Mestre hanno sofferto altrettanto e non c'è nessuna manovra a favore dei taxi di terra, tanto per fare un esempio. I titolari plateatico che già si sono visti dare grandissimi spazi a Venezia avranno l'esenzione totale della COSA. Proprio sui lancioni Gran Turismo Gasparinetti aveva chiesto in commissione bilancio quanto ammontassero gli arretrati dei canoni non pagati al Comune. Senza fare di tutto un urban fashion, volevamo capire qual è l'importo dovuto dalla categoria complessivamente al Comune e ci è stato risposto che sono 2,7 milioni di euro di arretrati non pagati da alcuni soggetti, non da tutti. Allora sarebbe iniquo forse dare un azzeramento dei canoni per l'anno in corso a chi non ha mai pagato prima. Quindi l'assessore ci ha risposto che questo verrà evitato e che si troverà un modo per dare il beneficio soltanto a chi è in regola con il pagamento o si impegna a mettersi in regola con la rateizzazione degli arretrati. Più in generale il giudizio di Terreacqua 2020 sulla manovra di bilancio del Comune di Venezia è negativo perché è incentrato su di una politica nuovamente basata sulla monocultura turistica. L'esempio più clamoroso sono i 3 milioni di euro stanziati a favore di questo 1600esimo anniversario di Venezia, siamo già a fine luglio e diamo altri 3 milioni di euro, non si sa per cosa, sicuramente per attirare turisti. Ci sono delle borse di terra distribuite ai turisti in arrivo all'aeroporto ma non è a questo che dovrebbe servire il bilancio comunale. Ci sono molte categorie in sofferenza in città, persone che hanno bisogno di aiuto e noi stiamo per regalare altri 3 milioni di euro per eventi fatti solo per attirare turismo.